Ciao a tutti, sono Giovanni Illuminati e sono un fonico. Sono qui per insegnarvi quello che succede dentro uno studio di registrazione visto dagli occhi della regia. Una volta acquisita la conoscenza di quello che è uno studio di registrazione, possiamo affrontare gli argomenti che riguardano la registrazione vera e propria, come approcciarsi per una registrazione all'interno di uno studio e come approcciarsi per una registrazione che vogliamo fare eventualmente a casa. imparare quali sono i mezzi che si possono utilizzare sia a casa sia a studio per registrare e saperli usare in una maniera più corretta. Una volta che abbiamo analizzato quelle che sono le tecniche di registrazione, come poterle eseguire sia a studio sia a casa, sarà importante anche analizzare quali sono gli step essenziali per poter produrre un brano e quindi dall'inizio della creazione di un brano che viene da parte vostra fino a portarlo in studio o eventualmente registrarlo a casa fino ad arrivare all'ultimo step che riguarda proprio la masterizzazione e quindi il brano finito che è quello che poi ascoltiamo tutti noi.